A due mesi dal trasferimento dei tribunali di Ariano Irpino a Benevento e di Sant'Angelo dei Lombardi ad Avellino, i sindaci delle due città, sede degli uffici giudiziari, hanno incontrato i rispettivi presidenti dei consigli e dell'ordine degli avvocati per valutare se e come proporre al Ministero l'istituzione della sede unica accorpante i due tribunali minori. L'iniziativa si è svolta nella sala giunta del municipio di Ariano Irpino ed è stata organizzata perché il Ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri, ha aperto al salvataggio in estremis di alcuni tribunali già inseriti nella lista di quelli da sopprimere. È nato il tentativo di revisione dei criteri fissati a suo tempo per la realizzazione della mappa della geografia giudiziaria, rispetto alla quale i due tribunali irpini tornano a sperare anche se l'impulso alla concertazione giunge a pochi giorni dall'inizio del trasferimento degli uffici. I sindaci di Ariano Irpino e di Sant'Angelo dei Lombardi, Antonio Mainiero e Rosanna Repore, hanno concordato sulla necessità che si ricerchino i punti di forza a sostegno del Tribunale Unico, ma sul piano organizzativo degli uffici pare siano ancora emerse alcune divergenze perché le ragioni del campanile sono dure a morire, mentre i due rappresentanti degli ordini forenzi, Carmine Monaco e Bruno Salzarulo, sono apparsi più pragmatici ed ottimisti rispetto alla soluzione che era stata già proposta dagli avvocati del foro di Ariano Irpino senza sortire effetti apprezzabili. Così i due tribunali hanno continuato a marciare in autonomia, pensando di poter conservare la propria indipendenza e di poter razionare ciascuno le proprie leve per allontanare lo spettro della soppressione. Ora è stato ritrovato lo spirito della collaborazione. Due tribunali sperano di poter limitare il danno adducendo motivazioni tecniche e territoriali fondate. Gli avvocati hanno analizzato la piantina dei presidi di giustizia con la parte geografica alla mano, convincentosi del fatto che in caso di chiusura resterebbe sguarnita una fascia molto ampia di territorio e sperano di poter essere convincente nei confronti del Ministero.